A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento mensile con i webinar di IG. Questa sera si parlerà di estensioni, ritracciamenti, target, confluenze, quindi un sacco di cose interessanti. Parliamo di Fibonacci, Leonardo Pisano detto Fibonacci e faremo esempi pratici sui grafici. Ovviamente guarderemo un po' come noi di Airforex andiamo a utilizzare questo tipo di strumento per calcolare le percentuali di alcune dinamiche di prezzo che avvengono in modo ricorrente. E quindi argomento interessantissimo questa sera. Ovviamente c'è la chat, quindi qualora vogliate porre alcune domande non ci sono assolutamente problemi, anzi fa solo che piacere. Io ovviamente vi presenterò un attimo quello che è il tema del webinar, ma soprattutto cercherò insomma di farvi entrare un po' nella dinamica di come utilizzo questo, come utilizziamo questo Fibonacci. Allora vi ricordo intanto che se ancora siete, come dire, non siete stati, non siete dentro il nostro evento, eccolo qua. Se andate sul sito airforex.com, trovate in home page la possibilità di iscrivervi al Price Action Trading Day 2023, lo facciamo una volta all'anno, lo facciamo sempre tra marzo e aprile. Quest'anno cade proprio il 25 di marzo, quindi un sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, quindi abbastanza facile un po' per tutti, anche per chi lavora durante il giorno, lo abbiamo ovviamente scelto per questo motivo. Nella pagina trovate i temi che verranno affrontati, quindi sicuramente tematiche molto interessanti da un punto di vista proprio tecnico del trading e poi dopo qualche giorno, il mercoledì, faremo un webinar esclusivo dedicato anche al mindset del Price Action Trader. Quindi praticamente ci sarà sia il corso di 4 ore dedicato più che altro ai grafici e poi ci sarà un'oretta, un'oretta e mezza, circa qualche giorno dopo, vi daremo il link poi successivamente a un ulteriore approfondimento, però quello legato più alla parte, diciamo, di approccio mentale, comportamentale del trading. Quindi iscrivetevi che siamo già un bel po' e tra un po' ci sarà questo evento, tra una decina di giorni esattamente, va bene? Bene, bene, allora io a questo punto direi che salutiamo un po' tutti, vedo che state entrando tutti nella stanza, quindi stiamo aumentando di numero, molto bene. Io inizio a parlarvi di questo personaggio, questo personaggio che si chiama Leonardo Pisano, Fibonacci, un matematico che ha vissuto tra il dodicesimo e tredicesimo secolo e ha sviluppato, diciamo, una progressione di numeri che poi ci si è accorti che è ricorrente in moltissimi schemi, in moltissime cose a livello proprio di vita quotidiana. La progressione di Fibonacci, di numeri di Fibonacci, si ottiene sempre sommando gli ultimi due valori, quindi si parte da 0 e 1 e si sommano. Quindi 0 più 1 vuol dire che il terzo elemento è ancora 1, poi 2, 1 più 1, poi ancora 3, 1 più 2, 5, 2 più 3, poi cosa c'è? L'8, 3 più 5 e via dicendo, 5 più 8, quindi 13 e via dicendo, quindi è proprio così, fino ad arrivare, cioè fino all'infinito, quindi non c'è una fine. Questa progressione di numeri di Fibonacci che appunto, ripeto, si ottiene sommando gli ultimi due valori che si hanno, quindi se eravamo arrivati a 13 e prima c'era l'8, 13 più 8 cosa fa? 21, quindi 21 è l'altro numero e via dicendo, crea appunto questa progressione che è stata sviluppata, diciamo, da questo matematico e un'altra cosa molto importante che adesso vedremo è questa, che rappresenta, diciamo, un pochino quello che è lo schema di progressione di Fibonacci, è il numero aureo 0,61,8. Il numero aureo 0,61,8 come è costruito, come si ottiene? Allora, se noi dividiamo qualsiasi numero della serie di Fibonacci per il successivo, si otterrà sempre circa 0,61,8, ok? Quindi 34 diviso 55 è 0,61,8, 89 diviso 144 è 0,61,8 e via dicendo. Questo 0,61,8 numero aureo è uno dei numeri che vedremo spesso, questo 618, lo vedremo spesso qui sulle nostre, su quello che andremo a vedere, sulle estensioni principalmente, ma non solo, anche sul pullback, sui tracciamenti, ma soprattutto sulle estensioni dove due estensioni che hanno come numeri finali 618 saranno le due estensioni che noi, diciamo, riteniamo più interessanti e spesso confluenti con azioni del prezzo, con aree di interesse e quindi, diciamo, assolutamente, insomma, un qualcosa di molto interessante. Allora, intanto saluto un po' tutti, vedo che Tiziano chiede in linea o dove, grazie, cosa vuol dire in linea? Non ho capito, se puoi spiegarti meglio, Tiziano. Vincenzo dice, c'è chi dice che la sequenza di Fibonacci sia stata scoperta da matematici indiani, ma Fibonacci ne ha fatto uno studio approfondito. Ma sì, ci sta, ci sta, ci sono varie situazioni. Io ovviamente vado qua, poi sapete che alla fine, che si chiami Fibonacci o che si chiami altro, noi poi lo utilizziamo nel trading ed è quello l'importante. Però ci sta quello che dice anche Vincenzo, insomma, che anzi è possibile, poi tutto parte magari anche da prima, magari prima degli indiani c'era qualcun altro, chissà. Però, insomma, ecco, Fibonacci sicuramente l'ha approfondito e quindi da qui noi partiamo, diciamo, e lo vediamo. Tra l'altro, le sequenze di numeri di Fibonacci sono, non so se avete mai visto, quegli schemi del corpo umano dove ritornano anche lì nelle dimensioni delle gambe, delle braccia, una serie praticamente di delle dita, della mano, della testa, ritorna sempre la sequenza di Fibonacci. Ma anche in natura, in qualsiasi altra, come dire, dinamica che si nota in natura, altra, qualsiasi altra cosa che si nota in natura, spesso ritorna la sequenza di Fibonacci. Quindi, adesso io non voglio fare un corso approfondito su Fibonacci perché ci vorrebbero almeno tre orette minimo, tre, quattro ore. Però, tra l'altro, nel Platinum noi abbiamo dei video approfonditi dedicati a questo che avevamo fatto con Antonio ancora qualche anno fa, quindi al massimo li potete vedere, per chi è Platinum o per chi vorrà diventare Platinum. Però, ecco, la mia idea era solo farvi una brevissima introduzione sul fatto che questi numeri Fibonacci sono ovunque e anche nei mercati dove comunque i movimenti di prezzo sono qualcosa di naturale, di umano, si riscontra una certa, come dire, frequenza, una certa ricorrenza di questi numeri, ok? Bene, andiamo sui grafici e vi inizio a spiegare come io vado a vedere, capire come andare a utilizzare questi grafici. Allora, guardate, io ho questi livelli, scusate, io ho preso qui l'oro, se l'avevo prima, andrò con voi a fare un'analisi di questo trend short, di questo trend long e insieme andrò a vedere, andremo a vedere che cosa, come posso andarlo a studiare, come si può poi sviluppare un'operatività attraverso questi livelli. Fate conto che io non mi sono preparato la lezione sull'oro, quindi ho l'oro qui, lo prendo e insieme li guardiamo, credetemi. Allora, la prima cosa da fare, la prima cosa che io vado a, diciamo, a vedere quando sono davanti a un grafico è c'è un trend, non c'è un trend, se c'è un trend capire questo trend fin dove può ritracciare. Quindi, se io adesso mi ritrovo in questa situazione qui, guardate un po', proprio prendo da qua, vedo che c'è una tendenza rialzista, minimo massimo, vedete, minimo massimo. Questo massimo crea una pin bar, ok? Una pinocchio bar. Questo minimo e massimo, quindi, per me è la prima leg, è la prima gamba rialzista che noi troviamo sul mercato, ok? Questo minimo massimo. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è, se io vado a disegnare, quindi devo sempre conoscere come si disegnano gli swing, io qui ne ho parlato un milione di volte, quindi oggi parlerò di swing in maniera un po' più disinvolta. Se volete approfondire gli swing, nel mio canale YouTube li trovate, trovate dei video. Probabilmente li ho fatti anche sul canale di IG. Comunque, insomma, se volete approfondire questo discorso, c'è il nostro sito. Gli swing sono appunto i punti di minimo massimo importante che creano un rimbalzo, diciamo, creano un movimento poi opposto al minimo o al massimo di swing. Ecco che se io vado a prendere questa gamba e quindi inizio a prendere il mio Fibonacci, la prima cosa da fare è capisco, cerco di capire dove, dove questa gamba può avere una fine, un inizio. Eccolo qua. Guardate un po'. Quindi io vado a disegnare questo. Questa è la ProRealTime di IG, la piattaforma advanced di IG, che consiglio a tutti perché è molto buona. Eccolo qua. Minimo massimo. Minimo massimo. Allora, andiamo a vedere intanto che livelli sono. Oh, eccoli qua. Allora, io i livelli che disegno principali sono quelli che vedete scritti qui. Tutti questi. Sono il 21,4, il 38,2, il 50, il 61,8, 161,8, 261,8, 423,2, 139, 211,8, 342,7. Nel vostro Fibonacci probabilmente non ci sono tutti o sono leggermente diversi. Ecco, io utilizzo questi. Ok? Questi numeri qua. Ok? Che tra l'altro sono livelli, alcuni di questi, che ha studiato il mio collega di Airforex Antonio Izzi negli anni. Quindi utilizziamo questi. Ok? Alcuni sono identici, alcuni sono leggermente differenti. Il 21,4 in realtà viene utilizzato al contrario, cioè è come se fosse il 78,6%. È che per che mi si formi il livello che voglio vedere io, bisogna scrivere 21,4 proprio per vedere l'ultimo, come dire, estremo punto di massimo ritracciamento. Quindi, detto questo e avendo visto questo, quindi tutti i livelli sia di estensione che di ritracciamento, eccoli qua. Fate conto che i livelli di ritracciamento saranno principalmente questi qui. Quindi, 78,6, 21,4, 38,2, 50, 61,8. Questi qui sono i principali livelli di ritracciamento. Gli altri, questi, sono i livelli di estensione. Questi pullback, quindi ritracciamento, questi qui estensione. Bene, andiamo a vedere un po'. Eccoci qua. Allora, 0,100. Quindi io, la prima volta che vedo una cosa del genere, una gamba di questo tipo, sicuramente una delle cose che faccio è quello di vedere dove possono essere i punti di ritracciamento. Ok? Quindi, dove sono i primi punti di ritracciamento? Quali sono i punti più importanti di ritracciamento? Questi che vedete qua. 38,2 sarebbe il 61,8. Ovviamente, visto qui, è 61,8. Ma se io calcolo qua, da qui a qui, 0,100, quando torna è un ritracciamento del 38,2, non del 61,8. Infatti, se io faccio 0,100, se sono qua, qua è 100, se torno indietro, no? Qui sarà il 40, 38% di questa gamba, no? Non il 60, il 60 è più qui, è verso la fine. Però ovviamente, quando si va a disegnare, lui ti calcola il 61. Poi, alla fine, cambia poco il 61,8. L'importante è che capiamo che queste tre zone sono le zone, diciamo, più importanti. Poi c'è l'ultima, che può essere importantissima, che è il 78,6, che spesso, se viene poi rotta al ribasso, diciamo che conferma in modo totale che il mercato probabilmente non ne ha più nel ritracciamento. Comunque non voglio essere troppo complicato. Allora, questo, quindi, quando io mi trovo in una situazione del genere che ho una gamba chiara, dopo magari ne vediamo altri esempi, quindi una leg chiara di rialzo, in questo caso, o di ribasso, poi la vedremo magari con questa, no? La cosa che si va a prendere è questa, e quindi si nota i punti dove lui potrebbe ritracciare. Quindi, partiamo dal presupposto che a volte voi, io noto, che mi fate questo, questa, mi dite così, no? Cioè, c'è un mercato in trend, e mi dite, va, io adesso compro, e si compra sui massimi. No, non va bene così, ok? Non va bene così. Noi dobbiamo fare questo e aspettare poi che il mercato swinghi e faccia pullback per poi ripartire. Quindi io voglio sempre un mercato che riossigeni. Se io faccio 0,100 da qui a qui, è ovvio che la percentuale da qui a qui c'è un 38,2%, un 50%, un 61,8%, un 78,6%. Ok? Diciamo che il 50%, che è la linea mediana, diciamo 0,100, è sempre un'area molto molto importante, che spesso confluisce con dei livelli importanti di ritorno, long nel caso long, short nel caso short. Ok? Quindi, massimo o minimo, qui si viene a creare questo. C'è una cosa da dire qui, però. A parte il fatto che qui non ho poi segnali di riacquisto, quindi ho bisogno sempre di avere dei segnali del mio piano di tre di riacquisto, anche se questo è un weekly ed è, sapete, il mio time frame di riferimento principale, la mia bussola, quindi vado sempre a fare principalmente queste dinamiche qui, le vado a fare principalmente sempre sul weekly per avere la tendenza di fondo, per avere i ritracciamenti più importanti, le stessioni più importanti. Poi vedremo come si può andare sul daily e nel breve trovare degli spunti proprio sui trigger di target, ma adesso lo vedremo pian piano. Quindi, nel momento in cui faccio questo, trovo dei punti di, come dire, di riacquisto, che sono poi dove lui si è appoggiato, guardate un po', 50%. In realtà, però, cosa notiamo qui? Se apriamo un po' la nostra view, noteremo che l'area dove lui è andato a sbattere, formando questa pin bar sul weekly, era un'area di cosa? Di vendita, questo è un livello chiave. Quindi sono le classiche zone che io tante volte vi ho fatto dei corsi, degli webinar dal 2010 che li faccio, e ne farò ancora dedicato ai livelli invece di prezzo, che è importantissimo. Quindi nel momento in cui ho minimo massimo, questo arriva, e sul livello chiave mi forma un segnale, in questo caso di ribasso, questa è una pin bar ribassista, è ovvio che io segno qua 0,100 e vedo dove in effetti il grafico del gold mi può dire che lui si può fermare, in effetti si è fermato, tra l'altro un'area di confluenza tra zone di prezzi importanti, ma starò attento a comprare, uno perché qui non ho neanche segnali long, e due perché livello chiave di vendita confluente con pin bar, segnale assolutamente super, tra l'altro in grande volatilità. Questo vedete, come si nota, è assolutamente un mega trigger. Quindi che cosa si fa, senza farvi troppa confusione? Tiro via un attimo questi, io cosa faccio? Vado solitamente a prendere il trigger, quindi il mio segnale, e vado a disegnare i livelli di estensione del trigger e di ritracciamento anche, eccoli qua, vado a segnare queste aree, questi livelli. Poi cosa noto? Quindi inizialmente mi si forma, facciamo un esempio, noi io sono partito da questa leg, non vedo il grafico successivamente, questo era una cosa che non vi ho detto, ma io adesso sto facendo come se io non vedessi quello che c'è successivamente, quindi la prima cosa da fare è questa. Mi si forma questa, ovviamente guardo anche dove può ritracciare, dove può arrivare, ok? Successivamente, guardate cosa succede, il giorno dopo si forma, cioè la settimana dopo si forma questa barra che poi recupera, quindi fa la barra rossa e poi ci recupera. Quindi di base, sapete io cosa potrei fare anche? Potrei andare a disegnare la leg, guardate un po', tac. Quindi, ritorno e ve lo faccio rivedere. Quando c'è una leg chiara, massimo e minimo, allora inizialmente io ho questo e quindi disegno l'estensione del trigger, ma poi guardate che si continua. Quindi c'è una leg continuativa, fin quando lui non si ferma e fa la barra verde, quindi recupera long. Quindi io cosa faccio? Posso andare a disegnare massimo e minimo della gamba long, finché lui non si ferma, vuol dire. Minimo, massimo, minimo, finché non si ferma. Poi si ferma, perché poi recupera, fa la barra verde, ok? Guardate cosa succede. Succede che lui poi ritraccia, addirittura questa candela qui, mi va anche a violare nuovamente i minimi, e poi ritraccia e guardate dove va? Sempre nella zona chiamata zona di pullback, cioè la zona che va da 61,8, che sarebbe il 38,2 del ritracciamento da qui, al 61,8, che qui viene scritto 38,2, ma non cambia nulla. Quindi questa qui è la zona di pullback, 50%, e questo è un po' l'andamento. Quindi, prima di tutto disegno la leg che vedo nella direzione del trend. Se c'è un segnale, un trigger, sul livello chiave, importante, dopo un'estensione, adesso vedremo vari esempi, vado a disegnare il Fibonacci, sia in estensione, quindi tutto quanto, sia estensione che pullback, del trigger. Se nel trigger, poi, il mercato continua e mostra una leg, quindi mostra una gamba 0-100, continua, finché non si ferma, io posso disegnare tutta quella leg, e ogni volta io andrò a disegnare le mie estensioni, i miei ritracciamenti sulle gambe, sulle leg, perché sulle leg sono i ritracciamenti e le estensioni migliori, quelli più affidabili. Soprattutto se li andate a disegnare dove? Su un grafico weekly, o addirittura mensile, ma il weekly lo ritengo ancora più affidabile, e vi assicuro che io il weekly o trado da sempre. Qualcuno qua vedo che mi conosce da tempo, e sa, insomma, che ho sempre fatto grafici weekly e daily, weekly per la bussola, quindi avendo la bussola, il weekly, io noto questo. Quindi, ritornando a noi, ovviamente, se avete delle domande, chiedete, non fatevi problemi, perché posso capire, il mio trading non è un trading, 1 più 1 più 1 fa 3, benissimo. No, 1 più 1 più 1 e poi vediamo. Quindi vi devo, ovviamente, cercare di farvi capire con dei giusti esempi, ma stando sul pratico e sul semplice, altrimenti diventa difficile. Guardiamo cos'è successo, guardiamo cos'è successo, ragazzi. Allora, andando a disegnare la leg, appunto, della pin bar che faceva l'inversione, quindi, prima pin bar, poi vediamo che fanno una continuazione, quindi disegniamo, cambiamo la settimana dopo, lo cambiamo, ok? Non è un problema. Quindi, 0, 100, questa è la zona dove potrebbe avvenire l'inversione. Quindi io, se trovo una pin bar così, contro il trend, magari decido di non venderla qui, ma di venderla quando? Quando lui fa un 1, fa un 2, fa un 3 e sul 3 disegna un nostro trigger. Questo che trigger è? Dai, quelli di voi che sono un po' più ferrati sulla price action di Airforex, questo che trigger è? Dai, dai. Non è tanto simple, dice Eleonora, non ho mai capito Fibonacci, siamo qua apposta. Il non ho mai, no, è come dicevo, qualcuno dice inizia ad andare in palestra magari a 50 anni, ma non ho mai fatto sport. Beh, inizia, cioè non è un problema, no? L'importante è cominciare a farlo in maniera seria. Quindi, siamo qua apposta, Eleonora. Doppio massimo lower close, bravo Carlo, bravo Simone, e bravo anche Stefano, tutti e tre, super platinati, bravi. Questo è un doppio massimo lower close, quindi cos'è successo? Non vendo sul trigger short, perché c'avevo la gamba long, qui potrebbe ritornare i long, quindi io addirittura qui potrei aspettare un long, ovviamente con molta attenzione perché qui c'è un livello chiave, una pinbar. Addirittura, se disegniamo poi la gamba, senza vendere qui, che poi è rischioso perché siamo su un contro trend, potrebbe ripartire, io cosa faccio? Eccolo qua. Aspetto la gamba, lui ritraccia, ci fa il trigger, e da qui possiamo iniziare a essere venditori, vendendo direttamente su weekly o attendendo delle conferme su daily nelle giornate successive. Come al solito, insomma, quello che dico sempre. Guardate poi cosa succede. Guardate cosa succede. La gamba, che viene disegnata a 0-100, guardate dove porta i livelli successivi. Prima vi ho parlato del 618 e vi ho detto che due delle estensioni maggiori, la 161,8 e la 261,8 sono le più importanti spesso. Come il 61,8 che in questo caso sarebbe il 38,2 perché abbiamo detto che il ritracciamento da qui è 30, 40, 50, 60 il ritracciamento, no? E anche questa è una delle più importanti. ma adesso voglio parlarvi delle estensioni. Guardate cosa succede. Il mercato va a prendersi direttamente al millimetro il 161,8 che era anche un livello abbastanza importante di prezzo qui. Poi guardate qui rimbalza poi ancora giù e guardate dove va livello di prezzo livello 211,8 bam e qui ritraccia. Poi guardate dove ritraccia sull'ex livello di minimo e dove sull'ex livello 161,8 e poi ancora ritorna qui rompe guardate dove va a un millimetro dal 261,8 anche livello di prezzo che ho segnato qua. Avete capito? Adesso io vi posso aprire io qua non ho preparato nulla ragazzi su questo grafico. Io vi posso prendere altri 100 grafici stare qui fino a domattina alle 6 e voi vedrete quante confluenze ci sono andando a disegnare le gambe i ritracciamenti i nostri trigger e le estensioni e i livelli dove il mercato poi si ferma. Il mercato dove si ferma quei livelli lì sono i nostri target spesso o comunque sono punti dove noi possiamo decidere con tutta tranquillità visto che abbiamo un weekly un daily di prendere profitto di chiudere mezza posizione di incrementare di attendere di andare a break even di fare insomma una gestione attiva ok anche di inserire un target no assolutamente inserito un target quindi queste sono situazioni molto interessanti andiamo a vedere quindi cosa succede quindi io ho già dei target io quando disegno una cosa del genere sono qua e vado a tradare facciamo un esempio tradiamo direttamente il weekly e vado a prendere questa il mio target iniziale qual è? non è questo ovviamente ma non è neanche questo probabilmente qual è quest'area qui se poi questa confluisce con la zona precedente io andrò a cercare di prendere profitto su quest'area ok ci siamo? e poi successivamente andiamo a vedere poi cosa succede guardiamo bene guardiamo bene mi piace vedere questo grafico che ha i vari ritracciamenti guardate poi io posso andare a fare che cosa? a disegnare anche questa di gamba vedete che questa è una gamba 0-100 non ha mai swing parte dal massimo e va direttamente al minimo e poi ritraccia quindi anche qui io posso andare a disegnare il mio fibonacci e adesso lo disegno uno sopra l'altro e andiamo a vedere che succede pam pam dove è? eccolo qua e per noi è importante perché guardate un po' è solo che adesso si fa confusione con l'altro quindi devo cancellare l'altro per forza se no mi creo confusione eccolo qua allora andiamo a vedere a me interessava più che altro l'area di ritracciamento guardate il mercato 0-100 0-100 prima area di ritracciamento qual è? 38 e 2 che sarebbe 61 e 8 scritto qui quindi una volta che lui parte e noi non siamo dentro se è troppo lontano ormai ha fatto già svariate candele noi che cos'è che aspettiamo? aspettiamo ritracciamento cioè quando si ferma e inizia a ritracciare quindi va verso la direzione opposta al mio alla direzione quindi in questo caso 0-100 ritracciamento tec eccolo qua zona di pullback qua l'abbiamo detto dal 61 e 8 che sarebbe il 38 e 2 al 61 e 8 che in questo caso si è scritto 38 e 2 ma non cambia niente chiamiamole come c'è scritto qua così non vi creò confusione dal 61 e 8 al 38 e 2 passando per il 50 questa è la zona dove passa il massimo ritracciamento prima vi dicevo anche il 78 e 6 che sarebbe qua la scritta 21 e 4 perché alcuni trader Dave Landry in questo caso uno dei trader insomma io ho studiato mi piace leggere poi io faccio un'operatività un po' diversa in realtà però mi piace e lui questa zona qui del 78 e 6 la chiama il gatekeeper no? il guardiano del cancello cioè l'ultimo punto di massimo dove in effetti una gamba in questo caso ribassista fosse anche rialzista può andare ad estendersi poi successivamente quello è molto facile che il mercato faccia i massimi oppure possa anche rompere in quel caso no? io solitamente la zona di pullback comunque la utilizzo più su un pullback più normale più tranquillo quindi tra il 38 e 2 e il 61 e 8 passando appunto abbiamo detto per il 50% quindi vedete bene tra l'altro notiamo qui che ancora le zone che poi avevamo segnato possono diventare aree qui abbiamo il 130 e 90 il 161 e 8 e poi successivamente a seguire però nel momento in cui ho la gamba iniziale la gamba iniziale di movimento o lo swing in questo caso poteva anche già essere questo ma poi abbiamo visto che è meglio questa dinamica qui da massimo a minimo che crea la gamba se io vado a prendere questa qua 7 marzo 22 14 marzo 22 se andiamo a vedere sul daily noteremo eccola qua la noteremo più facile ancora da vedere eccola qui è questa praticamente questa è la gamba che io ho disegnato prima sul weekly è questa qua sul daily ok ecco perché crea proprio il movimento poi guardate come sul weekly ci possono essere svariate pin bar per esempio questa è una questa è un'altra questa è un'altra che portano ci possono portare a prendere delle conferme se non siamo dentro sul weekly delle conferme sul daily oppure se siamo già dentro sul weekly qui potrebbero essere delle conferme per rimanere dentro o per incrementare un posizionamento che noi abbiamo andiamo avanti quindi il livello diciamo i livelli di estensione del primo swing questo qui sono sempre tra i più importanti ok sono sempre le più importanti andiamo a vedere anche l'altra gamba poi noi adesso abbiamo disegnato questa abbiamo disegnato questa adesso andiamo a disegnare quale questa quindi prendiamo qui da massimo a minimo e vedremo come anche qui troviamo una bella confluence che è questa 0-100 ritracciamento guardate dove va 38,2 50 61,8 si ferma sul 38,2 per chi conosce questo setup di miei anche questo in realtà sono tutte FTV FTV qui FTV lì quindi conferme tra l'altro no? oltre che fermata quindi se io sto su un mercato e sto studiando la struttura dell'oro io so che quando lui parte a fare questa barra lui sta ritracciando quindi fin tanto che non ci mostra una fermata e soprattutto un trigger sulla zona di pullback io non posso andare short qui al massimo cercherò dei mini long se proprio proprio oppure non faccio niente che è la cosa migliore in quel caso e andrò a cercare invece la possibilità di vendere o cercare delle conferme short per ovviamente fare un buon trade di qualità ecco io all'inizio vedo che siete anche parecchi questa sera non mi sono presentato magari molti di voi neanche mi conoscono anche se sono attivo da molto tempo molti anni però è anche giusto che mi presenti a tutti quanti voi che siete qui perché magari uno la prima volta che mi vede dice ma questo lavora sul weekly sì lavoro sul weekly sono questo personaggio che c'è qui sul sito di Airforex Ardino Schenato sono attivo con il mio trading da circa il 2005 forse qualche mese prima sono attivo con questo sito dal 2010 collaboro con IG cliente loro da tanti anni da molto prima dal 2012 collaboro con IG per quanto riguarda la formazione e sono un trader privato che fa trading con i suoi soldi e con le cose che andiamo a trasmettere su questo sito e sul canale YouTube cerchiamo insomma di trasmettere un approccio al trading esclusivamente legato alla price action di mercato quindi solamente ai grafici tra l'altro ci sono dei bei post sul blog se li volete andare a leggere non tradiamo notizie non facciamo trading sui fondamentali o su indicatori che possono per carità essere anche efficaci ma noi non lavoriamo su questo lavoriamo esclusivamente sulla price action quindi no volumi no indicatori oscillatori no notizie no nulla di tutto questo ok e facciamo trading esclusivamente su grafici grandi weekly e daily ok ecco perché poi non avevo fatto questa mini presentazione ma è giusto così quindi io quando vedo una cosa del genere io voglio solamente fare dei trade di qualità che possono andare a stop ragazzi possono essere delle perdite io quest'oggi ho chiuso un'operazione long su sterline a yen l'ho chiuso in perdita ok può succedere ok l'importante è avere il controllo di quello che si sta facendo di noi stessi e fare quello che in quel momento è la cosa più di qualità e che può portarci a generare un piccolo mattoncino che a fine mese diventa poi un mattoncino un po' più grande e a fine anno diventa magari il nostro realizzato il nostro obiettivo ok quindi è questo un po' il nostro faccio un trading molto più di qualità molto più rilassato dove le operazioni stanno dentro dai qualche giorno a qualche settimana quindi questa è una bellissima altra bella confluenza di pullback tra l'altro guardate cosa succede 130,90 il primo livello di estensione guardate dove arriva qui che cosa c'era prima qui c'era quasi il livello del 261,8 di questa lag se vi ricordate ok quindi sono livelli che continuano e si muovono adesso voglio vedere con voi l'ultima parte qua del grafico e voglio vedere alcune dinamiche guardate un po' cosa è successo qui qui c'è stato questo movimento adesso c'è stato questo allora io per esempio se vedo questa dinamica qui questo è un trigger un doppio massimo lower quindi la prima cosa che posso fare è andare a estendere questo massimo e minimo quindi adesso io non vado a prendere tutta la gamba ma prendo solo il massimo e minimo ok perché? perché se io vado sul daily andiamo a vedere un attimo sul daily eccola qua è questo è questo il movimento poi lui si è fermato quindi io sul daily a volte lo trovate meglio quindi io segno il trigger sul weekly quando il trigger è disegna un movimento finito che è questo se non lo riuscite a notare io lo noto già un po' sul daily sul weekly perché lo faccio da tempo se non riuscite a notarlo andiate sul daily e vedete dove finisce quindi guardate qua è qua che finisce perché è qua che lui si ferma quindi è questo lo vado a disegnare da qui da 1961 a 1862 quindi se io vado a prendere il settimanale troverete che da 19 ecco qua 1960 1860 eccolo là ok? quindi andiamo a segnarlo guardate che succede questo va a prendere questo era il livello principale se fosse stato rotto al ribasso i 161.8 1800 dollari l'oncia rotto al ribasso è facile che lui cosa poteva fare andava un po' più su e poi magari andava a prendersi questo livello per poi magari anche andare a prendersi questo livello qua addirittura c'è una confluenza incredibile non è mai andato poi giù ma guardate c'era una confluenza incredibile con i miei livelli livelli di prezzo quelli che sono segnati con la linea tratteggiata e i livelli di fibonacci impressionante guardate qua il proprio estensione però al momento lui è sceso fino a lì poi ha recuperato quindi adesso lui è andato a testare guardate proprio penso in giornata il gatekeeper il 78.6 e adesso è lì però aveva già sfondato anche il 61.8 mi sa che questo ormai voglia ripartire però non è detto adesso qui questo è l'ultimo livello diciamo di ritracciamento poi c'è il doppio massimo e quindi poi si vedrà però questa è la prima cosa che vedo poi cosa noto noto che nell'ultimo periodo cosa ha fatto questo è un FTV è anche un doppio minimo air close quindi è un mio trigger quindi anche qui vado a vedere questa è la settimana il 27 febbraio andiamo a vedere il daily come è messo 27 febbraio è questa vedete la gamba che è questa quindi è direttamente la gamba che io vado a segnare questa qui quindi prendo la gamba sul settimanale che sarebbe il trigger FTV in questo caso eccolo lì e qua chiama chiama abbastanza facilmente che cosa il 261.8 che tra l'altro è sui massimi precedenti molto interessante questa dinamica che si è venuta a creare sul gold poi se andiamo a prendere un po' più l'ampio respiro noteremo questo come primo livello di target poi abbiamo guardate il 342.7 che corrisponde alle chiusure qui a al livello diciamo dove si è creato un po' un tetto un tappo no? per per i compratori e poi successivamente addirittura l'ultima estensione 423.20 di quella FTV che è quella gamba che abbiamo visto sul daily no? ci porta fino a fino in alto fino lassù questi sono i livelli long che io trovo sul sull'oro quindi se io adesso sto sull'oro questa parte qua queste zone per me sono importantissime io le terrò come dire come zone importanti nel caso in cui mi vada a impostare dei trade long sul mercato dell'oro beh sicuramente queste saranno delle delle zone che io manterrò come importanti nelle prossime settimane ok? ci siamo bene 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 ditemi un mercato dai fatemi fatemi così andiamo a vedere un po' come si può analizzare un mercato io oggi vedete non ho slide non li ho quasi mai mi piace andare direttamente sui grafici datemi un mercato proviamo ad andare a vedere analizzare questo mercato che cosa può fare ovviamente è no Vincenzo il gold l'abbiamo appena visto l'abbiamo appena visto in questo modo quindi il gold è questo ok? Nasdaq Simone oh prendiamo il Nasdaq ok? e vediamo come analizzarlo da un punto di vista del come si chiama del Fibonacci diciamo no? quindi prendiamo il Nasdaq eccolo qua qua vabbè si può partire da dove si vuole ovviamente noi adesso magari prendiamo l'ultima parte e cerchiamo un po' di capire come si può analizzare nell'ottica un po' più futura un po' più poi si può andare a riprendere tutte queste gambe andare a fare tutte le analisi che si vuole ma come andrei a analizzare adesso io il Nasdaq no? Nasdaq indice tecnologico americano settore tecnologico azionario ok? va bene intanto vediamo questo che cosa vado a vedere la prima cosa che noto qual è? la gamba 0-100 ok? questa qui è una gamba assolutamente chiara quindi io la vado a segnare non complichiamoci la vita ok? robe semplici che le cose semplici sono sempre le più buone anche in cucina si dice ecco qua guardate un po' allora intanto la prima cosa che io noto è questa noto che il Nasdaq ha fatto un movimento 0-100 e da 0 a 100 ha iniziato un pullback questo pullback al momento ha toccato da prima il 38,2 e adesso questa settimana è andato a prendersi guardate il 50% di ritracciamento di questa lag tra l'altro sappiamo come vedete c'è la mia linea tratteggiata questo è anche un livello chiave 12.000 più o meno 11,9-12.000 livello 11,960 12.000 quindi confluenza tra zona di pullback 50% 38,2 confluenza di prezzo con i livelli di ritracciamento della gamba long e quindi in questo caso specifico che cosa faccio io da buon price action trader stile IR forex perché purtroppo oggi c'è un po' di inflazione con questa price action tanti parlano di price action ma insomma dovrebbero prima lavarsi bene la bocca prima di parlare di price action lasciamo stare questa cosa che sennò poi mi viene male al fegato prendiamo qua no questo questa cosa qui questo questa situazione che sta si sta creando adesso questa settimana va conclusa prima di capire se in effetti il mercato può tenere quindi io opero sempre su che cosa end of week end of day fine di giornata fine di settimana da lì capisco se il mercato che ho di fronte in questo caso il nasdaq mi sta in effetti confermando una dinamica piuttosto che no quindi nel caso di specie se io mi trovo con una dinamica long molto chiara un ritracciamento il ritracciamento è ancora nella zona di pullback che nella zona di pullback mi disegna tra l'altro c'è anche la media mobile 21 che è l'unico indicatore che utilizzo nella zona di pullback mi disegna come in questo caso sta disegnando una pin bar che è anche un ftv con falsa rottura dei minimi in questa zona di pullback che cosa succede che io da buon arduino schenato price action trader la settimana prossima che cosa farò andrò alla ricerca o comunque a focalizzare la mia attenzione esclusivamente su conferme long sul daily quindi chiude così bene io settimana prossima questa è la chiusura daily vado a cercare solamente conferme long durante i giorni successivi su grafico daily non su grafico a un'ora 15 minuti tutti questi grafici qui che sono solo grafici poi molto molto erratici su grafici daily quindi di giorno in giorno vado ad attendere che lui magari rompa su poi magari mi confermi con un nuovo pullback mi dia un nostro mio segnale e poi allora compro con tranquillità perché so che la struttura weekly è confermata da una struttura daily da una dinamica daily a quel punto io posso andare a comprare investire dei soldi metterci dei soldi per fare che cosa per ottenerne degli altri non per perdere poi succede che ogni tanto le posizioni non vanno come se no il mercato non esistirebbe e la grande come dire il grande passo che vi permetterà di essere costanti e profittevoli è tutta una questione di approccio mentale al trading tant'è che noi di Airforex facciamo tantissimi facciamo tantissimi corsi e approfondimenti legati proprio alla parte mindset tra l'altro l'ultimo articolo sul blog che vi ho detto che vi ho consigliato di leggere eccolo qua che ha scritto Antonio riporta anche il video che c'è su canale youtube dell'ultimo weekend traders mindset dove abbiamo fatto un weekend dal vivo parlando esclusivamente di gestione emotiva ragazzi perché per noi l'aspetto mentale nel trading è fondamentale quindi oggi noi abbiamo parlato di fibonacci abbiamo visto quanto questo fibonacci è interessante e di supporto al trading ma ricordatevi sempre che un ottimo tecnico non è per forza un buon trader dobbiamo anche saper gestire la nostra parte emotiva altrimenti non faremo mai niente io ho conosciuto trader che hanno fatto corsi di tutti mille webinar mille seminari li ho visti ovunque in 10 anni 12 anni questi 10-12 anni in questa decada ormai passata e continuano a switchare metodo ma non vanno mai ad approfondire gli aspetti invece di mindset di set mentale approccio comportamentale al trading ecco ricordatevi sempre che un approccio semplice less is more meno e più come dico sempre di qualità e non di quantità quindi pochi trade ma buoni unito a una gestione razionale rilassata sicura tranquilla del trading è lì dove c'è il vero step up ok quindi ricordatevi sempre che non è solo una questione tecnica al trading bene un altro mercato che vogliamo vedere sempre in ottica fibonacci e poi ci salutiamo volentieri per farvi capire come vado a osservare questi tipi di mercati datemene un altro così lo vediamo insieme come potremmo andarlo a sviluppare come analisi sempre attraverso fibonacci ovviamente quindi un'analisi più specifica riguardo a quello che abbiamo detto fino ad oggi fino a questa sera fino ad ora che mercato prendiamo dai ragazzi tirate fuori un mercato che vogliamo vedere con l'analisi con i livelli di fibonacci allora qua vedo Lorenzo che dice euro-dollaro e Simone che dice australia-dollaro ne prendo uno prenderei a questo punto euro-dollaro australia-dollaro vediamo un po' vediamo un po' andiamo sul weekly vediamo quello che può essere più interessante come li secondo me forse l'euro-dollaro a questo punto cosa dite a parte che questo è bello perché ha disegnato già delle cose interessanti vedete ha fatto il doppio massimo lower la settimana del 30 gennaio eccolo qua vedete questo è il movimento fino a lunedì si prende qua quindi vado a prenderlo dai prendiamo l'Australia andiamo a vedere questo questo è il movimento da prendere che su weekly appunto è vi faccio vedere tempo superiore ok sul weekly sarebbe questo in questo caso 0 100 ho preso non ho preso solo qui il come si chiama il il trigger ma ho preso 0 perché 0 100 fino a qua perché il daily mi confermava una lag che è arrivata da qui fino a qui non si è fermata qui questo era venerdì e questo era il doppio massimo lower lunedì c'era un po' in più e poi si ferma preferisco disegnare la lag ok qui andiamo a vedere il weekly eccolo qui guardate che bello guardate che bello come arriviamo sul 161.8 che era anche il livello precedente di pavimento va qui ritraccia sul 130.90 e adesso che chiude settimana scorsa vedete al di sotto del 161.8 qual è il prossimo livello di target questo che tra l'altro confluisce anche con il mio livello e ancora guardate qua confluisce con l'altro livello quindi diciamo che Australia dollaro no ha questa dinamica short andiamo a vedere anche l'euro dollaro visto che c'è tempo ci chiedeva Lorenzo eccolo qua guardate anche qui andiamo a vedere questo è il nostro trigger quindi la pin bar che è stata fatta esattamente il 30 gennaio andiamo a vedere anche qui se è quello da segnare no io preferisco segnare fino al martedì vedete che poi qua si ferma e poi ritraccia quindi preferisco segnare tutta la leg che parte da qui e va fino a qui vado a fare così gli dico di segnarmela anche sui time frame superiori così la vedo sul weekly che mi è più chiaro tutto andiamo a vedere qua un settimana oh guardate un po' guardate un po' che confluence eh allora andiamo a vedere questo è la leg qui c'era l'area di ritracciamento lui ha fatto un ritracciamento lieve fino a qui ma proprio lieve lieve quindi il 38.2 sarebbe si è fermato sul livello di prezzo che confluiva con il 130.90 se questa settimana mi chiude così cosa fa? annulla la dinamica precedente fa falsa rottura dei massimi questo è un segnale short però oggi è mercoledì sera aspettiamo giovedì e venerdì vediamo come chiude guardate se chiude al di sotto che cosa succede? prossimo livello 161.8 successivo livello 211.8 che è ancora ritengo ancora più importante in questo caso del 161.8 perché? perché è un livello che confluisce con queste chiusure e anche con questi minimi e massimi eh? quindi dovrei segnarlo come area tratteggiata lo segnerò guardate com'è perfetto arriva proprio su quest'area importantissimo quindi livello successivo per l'euro dollaro lo andiamo a segnare qui anzi porto giù questa che è molto più importante quest'area qui perché è un'area di chiusura vedete? close pump e confluence quindi la zona poco sotto 1.03 se chiude qua sotto se chiude sotto qui sarà la prossima zona di target per l'euro dollaro e poi guardate guardate ancora qua c'è un'estensione che è completamente confluente eccola qua 261.8 in area 1.01 confluente con questo livello ok? dobbiamo anche qui aspettare la close di settimana perché questa settimana mi aspettavo una continuazione long dopo questo pullback non c'è stata al momento anzi c'è stato un falso massimo quindi qua dobbiamo togliere queste freccine aspettiamo che lui concluda la settimana dopodiché potremo pensare di essere più favorevoli a uno short rispetto ad un long va bene? avete capito quindi come guardo un po' questi grafici attraverso l'uso di Fibonacci come segno le gambe come segno i trigger a volte sono direttamente il trigger lo swing a volte segno la gamba più lunga perché è un mix è un connubio tra weekly e daily che mi forma diciamo il punto massimo e minimo importante io li disegno così poi dopo ognuno ha un po' la sua modalità altre domande prima di salutarci sono le 18.56 quindi più o meno stiamo quasi un'oretta insieme qualche qualche cosa che volete chiedere volentieri siamo qui bellissimo bellissimo webinar bene Simone mi fa molto piacere spero di aver chiarito soprattutto a persone come te che fanno parte del platino da un po' meglio come vado a disegnare le zone di pullback e di estensione attraverso l'uso delle gambe e dei trigger chiaro come sempre dice Simone benissimo Ivan è stato molto istruttivo Vincenzo complimenti spiegato bella spiegazione grazie Ivan e Vincenzo che mi fa molto piacere Giovanni grazie mille perfetto grazie ragazzi quindi a me fa piacere più che altro non tanto che i complimenti per me ma soprattutto grazie Lorenzo grazie Ivan soprattutto che vi sia arrivato e che vi possa essere utile poi nel trading ok magari inizialmente non utilizzatelo subito in reale non andate subito tanto il mercato c'è anche domani anche l'anno prossimo anche tra un mese provatelo prima cercate di capirlo e cercate di studiarlo approfondirlo magari andatevi a segnare tutte queste cose andate a capire come si muove il mercato attraverso queste cose sicuramente ci saranno altre possibilità di riparlare di Fibonacci quindi non preoccupatevi grazie e si usa anche nel mensile io preferisco però fare come vi ho fatto vedere ok allora la registrazione probabilmente la inserirò sul mio canale youtube quindi per qualcuno che se la vuole rivedere volentieri tra l'altro iscrivetevi se non siete iscritti al mio canale è anche quello di G che tanto insomma è una cosa gratuita non vi costa nulla e c'è un sacco di materiale formativo va bene allora io vi ringrazio vi vi ricordo appunto che se volete potete tranquillamente andare a passare sul sul sito IRforex dove ci sono svariati post del blog c'è la possibilità di iscriversi al price action trading day c'è la possibilità di scaricare le guide insomma c'è un sacco di roba e al canale youtube principalmente sono le due cose su cui noi ovviamente facciamo di più quindi grazie vi auguro una buona serata una buon trading simple per qualsiasi cosa potete scrivere a info.irforex.com o comunque sul sito trovate addirittura il whatsapp quindi vi rispondiamo ok è un whatsapp solo di messaggi non di chiamate potete scrivere grazie a tutti io vi saluto vi auguro una buona serata a prestissimo ciao a presto grazie a tutti